Operiamo il bene mentre abbiamo a nostra disposizione del tempo e daremo gloria al nostro Padre Celeste, santificheremo noi stessi e daremo buon esempio agli altri. Questa frase dell'epistolario di San Pietro Pietrelcina, ripresa dalle sue numerose lettere, si riferisce al terzo epistolario, vuole un po' introdurre questo nostro spazio. Io do subito il benvenuto a Padre Francesco Savino, grazie per essere qui. Grazie a voi dell'invito e pace e bene a tutti. Ecco, Padre Francesco che ormai i nostri amici stanno conoscendo grazie ad un programma settimanale che è dedicato a voi, è dedicato alle vostre lettere, è dedicato alle vostre intenzioni di preghiera. Questo programma dal titolo Caro Padre Pio che il martedì ci accompagna. E proprio questo oggi, proprio a seguire di questa nostra chiacchierata con Padre Francesco, avremo modo di ascoltare queste lettere che i tanti amici, devoti, figli spirituali di Padre Pio ci inviano al nostro indirizzo di posta elettronica, caro Padre Pio, chiocciola, teleradiopadrepio.it e che ci inviano qui anche in redazione. Poi anche diverse lettere che arrivano direttamente anche in santuario. Ecco, io volevo ringraziare subito Padre Francesco perché oggi è qui, proprio perché è stato raggiunto qualche minuto fa da una brutta notizia, nel senso che è un lutto in famiglia. Ecco, io ti ringrazio comunque per la tua disponibilità. Eh sì, proprio prima di venire qui ho avuto una notizia, non è una parente stretta, però è parente stretta di mio fratello e la madre di mia cognata che all'improvviso è stata trovata morta nel proprio letto. Sono rimasto un po' sconvolto ma avevo questo impegno e io penso che è stato bene che sia anche venuto perché possiamo avere anche l'occasione per ricordarla, per raccomandarla anche le vostre preghiere. Ecco, voglio dire che è stata una donna straordinaria perché non è una signora molto vecchia, per dire, è una persona che ai tempi d'oggi ha avuto 12 figli. 12 figli. 12 figli che è difficile al tempo d'oggi, quindi non si tratta ecco di una donna dei tempi passati perché una volta era piuttosto normale, ma ai tempi d'oggi no. 12 figli di cui 9 femmine, 9 femmine. E tutte felicemente sposate, ecco tutte sistemate per dire, ecco, c'è una certa volta si ha il terrore di sistemare i propri figli, quindi una di queste figlie è anche suora. E mia cognata si chiama proprio Lucia, oggi avrebbe dovuto festeggiare il suo uno masso, lo festeggia diciamo con questo lutto in famiglia. E questo potrebbe essere anche un aggancio magari con le lettere che mi arrivano, ecco, proprio questa mattina, vedete ce l'ho qui nella pettorina, un po' come faceva anche Padre Pio, che si metteva nella pettorina, proprio questa mattina mi sono arrivato due, così, oltre a quelle che arrivano direttamente attraverso il... L'indirizzo di posta elettronica, oppure il nostro indirizzo. Ecco, noi intanto lo stiamo vedendo in sovrimpressione, caro Padre Pio, chiocciola, teleradiopadrepio.it. Ecco, molte volte, anche tra l'altro, tra il tenore delle lettere che arrivano, ecco, si parla di queste famiglie che si vanno frantumando, ecco, questo amore tra coniugi che non c'è più, o tra genitori e figli, ecco, e molte volte, ecco, le lettere che giungono qui, che ti trovano, ecco, te come lettore, poi come una sorta di ambasciatore nell'andare nella cripta, scusate, nella chiesa inferiore che accoglie le spoglie, che accoglie le reliquie del corpo di San Pio da Pietrelcina, ecco, per andare quasi ad affidare a lui, alla sua intercessione. Ecco, la famiglia è al centro molte volte di queste lettere. Sì, in realtà, proprio, perché veramente la famiglia è il tema dominante delle lettere, perché anche se si chiedono guarigioni, è sempre perché c'è l'aggancio alla famiglia, perché una mamma che ha un figlio che è molto malato, eccetera, ecco, la famiglia, diciamo, non è più serena. Però, ecco, mi vengono presentate tante situazioni matrimoniali, ecco, di marito e di moglie che vorrebbero andare d'accordo, si vorrebbero amare di più, ma succede sempre qualche cosa che non va e chiedono a Padre Pio perché la cosa possa ritornare serena come i tempi passati oppure situazioni irregolari, immatrimoniali. Noi, io, quello che posso, cerco di pregare, anzitutto, è di mettere le lettere sulla tomba, proprio sulla tomba, appunto, di Padre Pio, ma anche di dare piccole risposte, dei piccoli suggerimenti, perché la gente, ecco, vuole anche una risposta o vuole sentire qualcosa. Certo, anche delle fidanzate che vorrebbero pure un fidanzato, oggi, non so, sembra un po' strano. Una volta noi, anche adesso, ovviamente, pregavamo e preghiamo quasi sempre per l'evocazione sacerdotale, ma io da un tempo in qua, ecco, nelle mie prediche dico che bisogna pregare per le vocazioni matrimoniali, perché non si sposa quasi più nessuno, non si sposa, i giovani arrivano a 40 anni senza sposarsi e pensano che sia ancora presto. Certe volte arrivano a quell'età perché non hanno il lavoro, non hanno caso, posso capire, ma non è sempre questi i motivi, è perché hanno quasi paura di affrontare, ecco, un'avventura a due, in cui ci si lega per tutta la vita e questo è un dramma, se no non ci si sposa più, non è un dramma. Da dove escono i bambini? Oppure, in casi anche più brutti, per noi che crediamo, c'è la convivenza, la convivenza non è sacramentale, non è benedetta da Dio. Ecco, chi convive e pensa di essere devolto di Padre Pio non può essere così. E quindi chiedono tutti questi consigli, oltre alle guarigioni, la mamma per il figlio, il figlio per la mamma, la moglie per il marito, insomma, e tant'oltre sono delle situazioni davvero toccanti. Io mi commuovo davvero quando leggo queste lettere. Che dobbiamo fare? Ecco, non tutte poi le possiamo neanche leggere, perché sono tante. A volte le sintetizziamo anche. Spesso io le sintetizzo, però l'essenziale non lo tocco, solo qualche cosa di marginale cerco di togliere, ma la lettera viene letta quasi integralmente. Ora, dato i tempi televisivi, se lo sai meglio di me, è un po' difficile riuscire a leggere tutto, però tutte le lettere vengono poggiate, quelle che arrivano, tutte le lettere vengono poggiate sulla tomba di Padre Pio. Ma potrebbe pure d'asse che ci sia anche un periodo in cui ne arrivano di meno, e allora queste lettere non vengono buttate, che comunque prima o poi verranno lette. Magari qualora che l'hanno scritto non devono pretendere che subito ascoltino la loro lettera, devono avere pazienza nell'attendere. Nell'attesa. Tra l'altro abbiamo anche la sigla di questo nuovo programma che ci accompagna da una settimana circa su Teleradio Padre Pio. Volevo chiedere anche l'ausilio della regia se possiamo vedere la sigla. Eccola qui. E poi, subito dopo questa immagine, ecco tu entri nella chiesa inferiore, per leggere tutte queste preghiere, per tutte queste intenzioni. A volte arrivano proprio preghiere per situazioni reali, ad esempio che l'Italia sta vivendo, per l'Europa. Tanti sono i devoti, i figli spirituali che chiedono preghiere, ecco, affinché gli uomini si convertano. Ecco, poi altre diverse preghiere generiche che avrai modo anche tu di leggerle. E ricordiamo ai nostri amici radioascoltatori, telespettatori, internauti, che il martedì, ecco, è l'appuntamento con Caro Padre Pio. Caro Padre Pio, chiocciola, teleradiopadrepio.it, oppure inviateci le vostre preghiere, le vostre intenzioni di preghiere, lo potete fare anche direttamente a Padre Francesco Savino, intestandola al Convento dei Frati Minori Cappuccini, 71-013, San Giovanni Rotondo, quindi indirizzando a Padre Francesco. Quindi arriverà sicuramente, anche indicando Convento Cappuccini, arriverà, è sufficiente, arriverà in convento. Abbiamo ancora qualche altro minuto, Padre Francesco. Tu sei di San Giovanni Rotondo. Certo, sì. E quindi avrai avuto modo di incrociare Padre Pio da Pietrelcina. Senz'altro, senz'altro. E posso anche dire una cosa che può sembrare negativa, ma è positiva, no? Che la mia vocazione sacerdotale mi ha allontanato da Padre Pio, perché all'età di 11 anni, ecco, proprio per Padre Pio ho ricevuto la vocazione, anch'io a volerlo imitare diventando Frate Cappuccino e sono entrato in seminario. Però ecco, mio padre si è incrociato molto con lui, che ha vissuto quasi in simpiosi con Padre Pio, non perdendosi mai nessuna messa. E io ho avuto anche una grande fortuna di essere battezzato, di essere stato battezzato a Padre Pio, dopo che lui mi ha imposto il nome un mese e mezzo prima di nascere. Ma questo è collegato a un avvenimento molto più grande, insomma, a un grande miracolo ricevuto da mio padre. Era successa una grande disgrazia proprio nel convento di Padre Pio. E poi ha ricevuto la grazia. Allora mia madre era incinta, si aspettava questo bambino, che veniva dopo quattro femmine. E si diceva, ma che nome gli mettiamo? Insomma, sembrava che decidessero loro il nome da mettere a me, Padre Pio con i suoi figli spirituali, quando in quei pochi momenti che si concedeva di ricreazione. Allora chi diceva un nome, chi diceva un altro? Padre Pio a un certo punto sa cosa dice? Lo chiameremo Pio. E siccome tutti sapevano la situazione, conoscevano la mia famiglia, e Pio ha già una figlia che si chiama Pia, eppure per riconoscenza un'altra grande grazia pure ricevuta, no? E Padre Pio scherzando dice, eh, quello Giovannino nostro, chiamavo così mio padre Giovanni Giovannino nostro, i suoi figli chiamerebbe tutti Pio. Poi c'era Fra Gerardo che suggerì, perché non lo chiamiamo Francesco? È il tuo nome di battesimo? È il nostro fondatore San Francesco? Padre Pio diventa serio. E quasi guardando lontano, dice Francesco è il suo nome. Qualche altro, volendo ancora scherzare, perché sapevano che prima di me c'erano state quattro femmine, eh, sei maschio, ho detto Francesco. Poi un episodio proprio particolare, che ricordo proprio il mio rapporto un po' più stretto, a parte il fatto che gli ho servito tante volte anche la messa, quando io stavo già in seminario alla seconda media, ero venuto in vacanza, si veniva in vacanza quando si era nel seminario, per dieci giorni ogni due anni, pensa un po'. Allora in questi dieci giorni ho approfittato di confessarmi dal padre Pio. Io pensavo di essere trattato un po' con i guanti gialli, perché ero seminarista, piuttosto piccolo, all'età di 12 anni, figlio di Giovanni che lui conosceva bene, che aveva guarito, che lavorava nel convento. Da quanto tempo non ti confesse? Nella settimana. Oggi la gente fa fatica a confessarsi, invece era un po' normale confessarsi ogni settimana. E quali sono i peccati? Ho detto qualcosina, che potevo dire, 12 anni. Poi alla fine ho detto così, senza neanche troppa convinzione, qualche pensiero cattivo. Il padre Pio mi domanda così molto serio, è severo. Quante volte? Oh, povero me, quante volte i pensieri. Ma il padre ha fatto così. Dopo tre volte. Hai dato tre volte l'anima al diavolo. Caro Francesco, questo per far capire che il padre Pio era intransigente con il peccato, ma era molto buono con i peccatori. Questo bisogna fare anche capire che molti pensano che il padre Pio era molto burbero, ma ci sono tanti che hanno fatto proprio notare, risaltare la grande umanità di padre Pio. Tra l'altro, se non sbaglio, il padre Francesco, ma tu hai scritto un libro su padre Pio? Certo che ho scritto un libro, lo devo riconoscere anche con ritardo, infatti chi l'ha letto? Ma tu hai tenuto nascoste tutte queste cose finora? Sinceramente io non so dire il perché. Anzitutto non mi ritenevo l'altezza di fare un libro. Poi pensavo che fosse... Chiediamo alla redazione se riescono a recuperare nella... Ce l'avete qui un libro. Certo, certo, certo. Chiediamo... Ecco, sicuramente la regia ora ci fornirà il tuo libro qui alla libreria accanto, la libreria padre Pio. Io dicevo con un po' di ritardo perché pensavo che tutti più o meno avessero avuto delle esperienze, ma poi mi sono reso conto che le situazioni da raccontare erano tante, ma anche strepitose, straordinarie, come questo miracolo. Non lo racconto perché ci porterebbe molto tempo della trasmissione. In seguito a quel grande miracolo poi mi è stato imposto... Simona, grazie, grazie mille. Ecco qui, sta portando proprio il libro che io ho scritto e di cui ci sarà anche la presentazione sabato prossimo alle ore 19 nel chiostro comunale di San Giorotondo che è un bel chiostro perché anticamente la sede del comune era un convento dei frati minori, non cappuccini minori e qui c'erano i cappuccini invece al convento qui a quest'anno da paese. l'astro del Gargano. L'astro del Gargano, sì. L'astro, come mai hai dato questo sottotitolo? Perché mi è sembrato proprio giusto dargli questo titolo perché per me padre Pio è stato un astro, un astro, c'è un sole che ha illuminato il Gargano, ma dal Gargano come il sole che è molto lontano ma riesce a illuminare tanti pianeti ecco dal Gargano ha illuminato il mondo. Io per la verità all'inizio l'avevo titolato così padre Pio l'astro del Gargano e i suoi pianeti proprio per far capire che tanti altri si sono santificati alla sua presenza con la sua luce non è che lui si è santificato soltanto lui e basta. Poi come San Francesco è diventato santo lui e dietro di lui tanti altri così per padre Pio infatti ci sono nominati tanti io ho nominato ho nominato soltanto quelli che sono in certo qual modo entrati direttamente o indirettamente nella mia famiglia. Certo. Padre Francesco abbiamo ancora qualche altro minuto poi potresti leggerci qualche passaggio non so uno dei più significativi ora ti prendo all'astrovvista. Sì ma andiamo un altro perché senza occhiale sono un po' vecchiarello però io credo che si noti dai capelli bianchi tra l'altro lo fai anche quando leggi le lettere ebbè certamente vorrei leggere senza occhiare ma insomma come facciamo? Allora fare più l'astro del Gargano testimonianza di una famiglia far notare come ecco l'umanità di Padre Pio se vogliamo che nei confronti di mio padre che gli riserva un giorno ecco la possibilità di poter servire lui la messa anche se non gli toccava ecco l'ho intitolato così questo capitoletto attento il ministrante servire la messa a Padre Pio divenne il desiderio di molti e per evitare la resa fu necessario ricorre ai turni si facevano dei turni d'ora in poi per servir messa al frate delle stimmate era necessario prenotarsi ma non lo era affatto per poter partecipare alla celebrazione e soprattutto per gli uomini che affollavano l'angusto presbiterio era come servire per molti ormai iniziare la giornata con la messa di Padre Pio era diventato indispensabile nonostante l'orario proibitivo le 5 del mattino labora implacabile molto frequente la pioggia o la neve diverse attendevano all'apertura della chiesa pregando in ginocchio per rendere ulteriormente oneroso il sacrificio o anche per accaparrarsi i primi posti una mattina d'inverno come al solito mio padre si svegliò alle 4 del mattino per partecipare alla Santa Messa e poi rimanere alcune ore a lavorare nell'orto perché offriva gratuitamente alcune ore di lavoro nell'orto e poi andava a lavorare nel suo era già pronto per uscire quando si accorse aprendo lo spiongino che fuori era tutto ricoperto di neve da un rapido sopralluogo circa mezzo metro soprattutto nei punti in cui il vento l'aveva accumulata proibitivo avventurarsi anche perché l'illuminazione era quasi inesistente e la strada poco più che una mulattiera mio padre non si pesse d'animo si equipaggiò il meglio possibile e caparbio si incamminò verso il suo polo d'attrazione erano circa 2 km di distanza le 5 intanto erano suonate i fedeli ancora più caparbi di papà riempivano i banchi i ministranti di turno perché non non toccava mio padre servire i ministranti di turno erano pronti padre Pio rivestito dai paramenti sacri era profondamente assorto qualcuno gli fece notare padre le 5 sono suonate dobbiamo attendere fu la risposta insolito del padre che era sempre puntuale dopo un quarto d'ora padre ma chi attendiamo il ministrante sono già qui pronti ho detto che attendo il ministrante ribatte con un dono che non ammetteva repliche dopo mezz'ora pensa un po' giunse il ministrante atteso trafelato e fraddicio di neve ancora ansimante aveva percorso i quasi due chilometri sotto la tormenta e si tormentava al pensiero di non riuscire ad arrivare in tempo alla celebrazione e di iniziare male la giornata ora con il volto rosso paonazzo si sente perpuotere dallo sguardo di tutti forché di quello del suo caro padre che lo guarda amorevolmente compiaciuto e ordina il ministrante oggi e il giovannino così il padre spirituale sapeva ricompensare i suoi figli bello questo spiega un po' anche tutta la spiritualità di padre Pio ecco anche il suo dire grazie a tutti coloro che davano una mano in questo senso ecco tuo papà che dava una mano anche ai frati Cappuccini però in fondo c'è c'è anche del miracoloso perché padre Pio in pratica sapeva che mio padre stava venendo quindi vedeva tutto lo sforzo che faceva per arrivare combattendo contro la neve perché poi tanti partitori non gli ho detto ma lui a un certo punto era uscito anche fuori strada andando a finire in un fosso perché poi per risalire insomma ce l'è voluto perché poi non c'erano le case come adesso allora abbiamo giusto un minuto padre Francesco ecco se c'è un altro minuto vorrei leggere un'altra pagina di quando appunto io ero in seminario e lì avevo nostalgia dei santi infatti l'ho intitolato proprio così nostalgia dei santi una paginetta l'estate rimanevamo in seminario perché si andava in vacanza ogni due anni occupati a studiare giocare a pallone e alla lettura i romanzi che ci fornivano erano le vite dei santi soprattutto cappuccini santi e beati venerabili e servi di Dio giovani e anziani recenti e remoti mi piacevano molto e mi appassionavano e mi appassionavano rivivevo le loro gesta e le loro virtù li sognavo di giorno e di notte spesso pensavo come sarebbe stato bello conoscerli parlare con loro toccarli vederli che fortuna hanno avuto i loro contemporanei perché Dio non li manda anche oggi i santi e credevo che ciò fosse solo un retaggio del passato qualcosa che ormai non potesse più ripetersi quando poi Padre Pacifico ci portava qualche film allora non esisteva nel televisione c'erano dei filmini con la cinepresa lui ce li portava di tanto in tanto uno ogni paio di mesi la maggior parte di questi film erano i santi ed erano quelli che gradivo di più e la nostalgia aumentava a dismisura perché non ci sono ancora oggi i santi continuavo a chiedermi nel mio immaginario Padre Pio non apparteneva alla schiera dei santi era il padre di tutti il padre buono a cui tutti potevano e dovevano ricorrere era il padre che ogni città e villaggio certamente aveva ogni parrocchia ne era certamente fornito non era possibile vivere senza avere Padre Pio Padre Pio rientrava nella normalità straordinaria di ogni tempio e di ogni luogo ma io avrei voluto conoscere da vicino il venerabile il beato il santo come quelli diventati di gesso che riempiono le nostre chiese ci vuole del tempo per capire che quel fortunato quel privilegiato che aveva conosciuto e toccato il santo quello vero davvero straordinario che il buon Dio ci manda di tanto in tanto ero proprio io e la mia famiglia aveva avuto a più riprese il sommo privilegio di sperimentarne la sua straordinaria potenza interceditrice e sarebbero tanti episodi scritti qui dentro bene 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 grazie grazie Padre Francesco lo ricordiamo allora il 17 giusto 17 sabato prossimo alle ore 19 19 al chiostro comunale sarà presentato il tuo libro Padre Pio l'astro del Gargano da parte Padre Luciano Padre Luciano che è direttore della rivista di studi e lui mi ha fatto anche la presentazione al libro tra l'altro Padre Luciano che ha presentato il suo libro proprio qualche settimana qualche settimana fa ha presentato anche il suo libro Padre Luciano è straordinario comunque è proprio uno dei massimi esperti lo salutiamo Padre Luciano il direttore della rivista studi su Padre Pio definitore provinciale della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio bene Padre Francesco ricordiamo i nostri amici telespettatori radioscoltatori internauti anche perché su internet sul nostro portale youtube e sul nostro sito internet teleradiopadrepio.it ritroverete anche gli appuntamenti con caro Padre Pio le vostre intenzioni di preghiera le vostre lettere le vostre richieste di preghiera ecco che giungono settimanalmente quotidianamente qui in redazione e anche in santuario verranno poi riprese e lette da Padre Francesco Savino ogni settimana il martedì con qualche minuto di ritardo quest'oggi alle 11 con caro Padre Pio grazie ancora Padre Francesco grazie a te arrivederci anche a voi cari telespettatori attendo anche le vostre lettere facciamo una piccola pausa e poi caro Padre Pio grazie a te grazie a te